ciao a tutti e benvenuti nel mio canale allora da come avrete potuto notare dal titolo e dalla fotocopertina oggi sono qui con un video molto semplice in realtà vedete che non ho neanche il microfono perché spesso mi chiedete video lo fai quindi senza microfono, senza attrezzatura, senza niente e quindi eccomi qui, eccomi qui, eccomi qui dato che non volevo sprecare il make up di oggi e le altre tipologie di video che avrei dovuto registrare oggi non le posso fare perché c'è casino e tutto quanto quindi ho detto faccio un video così di 10 minuti magari e provo a farvi rilassare senza attrezzatura, senza niente magari con qualche trigger e niente, ovviamente nei commenti voglio sapere se sono riuscita a farvi rilassare nell'info box come sempre trovate il link della wishlist di Amazon se anche voi volete un video dedica ho messo delle cose un sacco un sacco un sacco un sacco carine anche a tema Halloween perché vorrei appunto portarvi un video speciale a tema Halloween a il 31 proprio, ho messo delle zucche squishy e un libro con una fiaba che secondo me è un sacco carina e appunto volevo farvi un video unico con quei due regalini ovviamente si arriveranno prima di Halloween altrimenti non ha senso farvi il video tema Halloween per dire a Natale quindi poi se non arriveranno li toglierò e niente, oggi sono in compagnia del mio fantastico bicchierone nuovo per il caffè e latte che mi ha regalato la mia amica Paola che sono davvero un sacco emozionata finalmente riesco ad utilizzarlo quindi ha tutto un altro sapore bevuto là dentro ovviamente ci saranno tanti che so che vi piacciono no Via i pensieri negativi Ora ti faccio delle coccole sul viso Coccole, 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 coccole Coccole, 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 coccole Rilassati, non pensare a niente Ci sono qui io per te, per te, per te Per il tuo relax Questo è il tuo momento È il tuo momento e devi rilassarti Abbandona il tuo corpo e addormentati Chiudi gli occhi Chiudi gli occhi Chiudi, chiudi, chiudi Close your eyes, close your eyes, close your eyes Prendo, 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 prendo Prelevo, 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 prelevo Zac, zac Zac, zac Via, via, via Allontaniamo tutte le energie negative Tutte le persone tossiche, tossiche, tossiche E le buttiamo via Facciamo spazio solo a energia positiva E a persone belle Che ci migliorano la vita e non ce la rovinano Tico, 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 tico Sì 10 9 8 7 6 5 4 4 3 2 1 0 0 Close your eyes Close your eyes Close your eyes Chiudi gli occhi Respira con me Un solo respiro profondo fatto bene E ti sentirai meglio E un sacco più rilassato e vuoto Non ci credi? Prova con me Allora Dovrei tenere il respiro Per 5 secondi E buttarlo fuori lentamente Lo facciamo insieme, ok? 1 2 3 Vi giuro è la cosa più rilassante al mondo Perché sentite proprio tutto il peso Tutte le energie negative che scendono giù Lo facciamo un'altra volta, ok? Contiamo fino a 3 questa volta Come ti senti? Sono contenta Ora che sei bello rilassato Non devi fare altro Non devi fare altro Che chiudere gli occhi E addormentarti 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 Ti sveglierai più sereno E più rilassato Parola di gesso E' un po' di gesso Che chiudere gli occhi E' un po' di gesso Sì, sì, sì e niente questo era il video spero che vi sia piaciuto e spero che vi abbia fatto rilassare ovviamente fatemelo sapere sotto con un commentino con un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le notifiche dei prossimi video io vi mando tantissimi i miei capagioni vi auguro una buona una buona e stupenda notte ci vediamo alla prossima buonanotte buonanotte buonanotte